Nemmeno ricordo come è iniziata. Continuava a pecchiarmi. Credevo di morire. Volevo fare il medico per salvare vite. E a stento ho salvato la mia. Diciamo basta. Gli abbandoni della professione medica per le aggressioni subite sono in continuo aumento e il cittadino rimane senza cure. Ma dove siete? Dove siete finiti? Ho bisogno di un medico! Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale. Diciamo basta alla violenza contro i medici.